Al Bovimac 2019 la 26esima mostra bovina d'inverno e 23esima rassegna padana delle macchine d'attrezzature per l'agricoltura e la zootecnia, che si terrà nei padiglioni della fiera millenaria di Gonzaga dal 18 al 20 di gennaio, sarà presente come ogni anno anche Confagricoltura a Mantova. Bovimac 2019, quest'anno un appuntamento importante per Confagricoltura, che cosa farete? Bovimac per noi è sempre stato un appuntamento importante, quest'anno vogliamo fare il focus su quello che è l'agricoltura di precisione, a nostro modo di vedere le nuove tecnologie che riguardano l'agricoltura di precisione sono il futuro dell'agricoltura, non può passare se non da qui quello che è l'agricoltura sostenibile, quindi meno l'utilizzo di fertilizzanti, di acqua e di mezzi tecnici, solo l'agricoltura di precisione può garantire un'agricoltura che produrrà per sfamare un mondo, per sfamare il mondo utilizzando meno input e quindi meno mezzi tecnici. Due gli appuntamenti in programma in questa edizione della manifestazione. Noi la articoleremo in due giornate, il 18 gennaio faremo una giornata dimostrativa per gli studenti degli istituti agrari, dove di fatto illustreremo quelli che sono i vantaggi e gli scopi dell'agricoltura di precisione, il giorno successivo, il 19 gennaio invece sarà aperto al pubblico questa dimostrazione e faremo anche alcune prove dimostrative di come viene applicata l'agricoltura di precisione. Crediamo in questa tecnologia perché a nostro modo di vedere, ripeto, è il futuro dell'agricoltura.